Paritori, aonde siete? Ma per non sapere i fatti vostri, al bar non venite più, onde facciamo la solita scopa? Compariamo quale scopa? Ormai io la scopa ho fatto con mia moglie Rosalia. Sapo io, cacumare, e quando ci imparavo? E come come si imparava? Mia moglie scopa bene, facciamo sette scopi e scoponi. Se pari mattiti, una partita cacumare, ma voglio fare. Scherzato o ho parlato davvero? Non scherzo, vi dico sul serio. Comunque, compa, ora non mi faccio perdere tempo, che è arrivata alla famiglia, prima che giure. Quando ho mancato i pinoli... Ma avete ancora una malattia a casa, forse? No, no, compa, voglio dire la verità. Da quando nasce questa pinola, fa risuscitare e mancare le morti. Allora pure un nonno mio, non ho visto uovini di Pachino. Da quella Pachino c'è castagna. Appena nasce questa pinola, Rosalia mi ha fatto provare, tutti i siri facendo la guerra mondiale, la prima, la seconda tezza, che è un miracolo. È un miracolo come io. Minta come io. Capessa magari quando compare, sapendo là di un pilo, fa diventare un palo. E allora compare contenta. Contenta? Contentissima! Mi fa ogni sire complimenti. Dici che ha palo di 18 anni. Come il vostro cugino Pascalino allora. Che vuole dire? Vuol dire che con il mare aveva i palli, come non ci dice in Calabria. Rosalia aveva i palli e i contrapalli. Per questo non vi potete dire niente. Avete ragione compare. La mia è una famiglia onorata. Mio cugino aveva il cassolo. Mio zio è una senara. E voi facessero tre mesi in carcere. Tutto chiesto su o su scruscio. E no compare, ancora cercavo sapere io. Ho prenduto 20 anni. Se no non mi porta neanche quattro ruote. Poi per il mare ci penso io. Grazie compare, grazie. Io lo sapevo che di voi mi potevo affidare. Comunque provatelo a questa pinola. E dopo mi sapete dire. Ma non ho bisogno compare. Voi lo sapete. Per ogni occhetta ci mettono bottoni. Uuuu. Magari a me entra in Sicilia e mi chiamano Turutoro. Mio compare. Mi volete offendere? No. Mio curice. Il gatto. Il gatto che si mangia? Il topo. Il topo che si mangia? Il formaggio. Il formaggio come si fa? Il latte. E il latte che fa? La vacca. Il marito della vacca. Cosa è? Il toro. Il toro della testa che c'ha? I corna. E che mi registrano con uno da mia? Ma non scherzate compare. Queste cose noi facciamo alle altre. Io quando ero caruso era terribile. Prima di Rosalia. Fui con sua zia. Poi con il casoro. E poi con la gemella. Mia cugnata. Allora sui ragazzi che si? Mio padre prima di morire mi disse. Mi raccomando. Fate una famiglia. Io vi faccio tutta la famiglia. Però vi resta ancora il padre. Ma non ci sape ancora. Lei scherza sempre. Compare scherza sempre. Ora con questa pinnola. Sono un pericolo pubblico. Peggio di prima. State lontano. Non mi avevi una fantasia. Ma così e poi no. Ma dove ha vinto questa pinnola di miracoli? Ma erano spaggite la voce. Chissà viene una famiglia. E una pinnola di lamuri. Ma non ci vuoi la ricetta del medico? No. Questa ricetta del medico. E ti chiedi che ci ricetta il tuo farmacista. E se andava a stare percioli io mi vergogno. Che se andava a stare e ci dice piano piano. Ma una pinnola da pressione. Ah si. Un farmacista capisce. Va un gatto e va mettendo le mani. Basta non mi mettere un'altra parte compare. Ma la scienza è arrivata. Di un pilo a un palo. Un palo di ferro compare. Un palo di ferro. Un palo di ferro. Facciamo le mani. Ma guarda questo carnuto. A posto è sempre arzillo. Amo l'interocco che è una farmacia. Fermati qua. Fermati qua. No. Fermati qua. Avanti chassiti. Non c'è un farmacista. Ma chissà che non ci dico. Scusate. Torno dopo quando non c'è un farmacista. No, no. Non si preoccupi. Io sono una moglie. Veramente voglia parlare con il vostro marito. Sono così i mascoli. Voi mi capisci. Mi dici. Sei lo stesso. Mi dissero che voi vendite i pinnoli. Patesta? No. No. Non morso più sotto. Ma che fa? No. Mi dissero che voi vendite i pinnoli per la prossima dei mascoli. Ah, voi la avete in bascia e va volete i sari. Mi dissero che capisci. Prima che ci do una pinnola vi faccio una domanda. Va misurato? No. La vostra moglie non va misurato. La moglie? Ma perché è geometra? Ci vergogna. Ma quant'avvi che non va misurato? E quando gli va a scuola? Faccio una gara con i compagni miei. Allora, visto che aveva assai che non va misurato, va misurato io. Dai, in c'è una stanza. E vostro marito non vi dice niente? No, fa per tutto il mio cavallo. Contento io e contento tutti. Mi dica, ma a meno, a minima. Lava 80. Signora mia, che se la via 80 veniva a voi. Andasse già in cia che c'è un lettino. Si mentisse comodo, che ora io vengo. Ma siamo sicuri che vostro marito non dice niente? No, no, non si preoccupassi. Che oggi ci ha misurato tutto il tuo paese. Come organizza bene questa carbacista? Scusate signora, ma ho compagno mio. Turutoro, siciliano, ci ha misurato voi? Sì, a Turutoro. E a quando la via? Se non ricordo male, a minima la via 80. E la massima? A 140. Ho spaventato la Calabria. Allora io faccio schifo. Non si preoccupassi. A pressioni può inchianare e può scendere con questa pinnula. Che faccio? Mi spoglio. Mi cuore, signora. Come volete? Pura dritta. Pura viziosa io. E senta, io tempi pedri non ho. A cucinare e a scopare. E mio marito sta ruando da caccia. A Turutoro ci l'avessi misurato a tre clienti. E chi sto qua? Che il vostro marito tornerà a caccia e sparavista. E' pronto, pozzucaseri. Scusate, dottoressa. Mi pentia. Torno quando hai le misure giuste. Ma non vi preoccupate. Vami solo io. Si lo va sta giacca. Ma siete pace voi. C'hanno solo subito. Ci metto due minuti. Ma non è che per casa la pinnula da pressione.